Oggi parleremo del mondo Peugeot e lo faremo con Giulio Marc d'Alberton, responsabile della comunicazione del marchio francese qui in Italia. Ciao Giulio, grazie di essere tornato a trovare. Ciao Alice, buonasera a tutti, ben ritrovati. Allora, questo è un momento molto importante in generale per il mercato automobilistico. Siamo arrivati proprio secondo me ad un momento di svolta ed è un momento molto importante anche per la storia di Peugeot e la protagonista in studio qui. Oggi la nuova 208 rappresenta un po' questa nuova era del marchio che rappresenti tu. Spiegaci tu il perché. Nuovi motori, nuovo pianale, insomma una vettura rivoluzionaria. Sicuramente rivoluzionaria, ma lo si dice spesso delle nuove, delle novità che vengono presentate sul mondo dell'auto. 208 in particolar modo è una vera rivoluzione perché cambia quello che è il paradigma dell'automobile, nel senso che introduce il concetto di libertà, libertà di scelta tra diverse motorizzazioni che non sono solo le classiche diesel e benzina ma anche il 100% elettrico, come una reale concreta alternativa alle motorizzazioni più utilizzate fino ad oggi. Libertà perché? Perché permette di scegliere la vettura ideale per i propri spostamenti, preferita come stile senza dover fare rinunce in termini di comfort, di qualità della vita a bordo, di spazio dell'abitacolo perché le tre diverse alimentazioni non comportano alcun cambiamento a livello di spazio e di abitabilità. È una nuova generazione della prima 208 presentata nel 2012 ma sostanzialmente del vecchio modello della vecchia generazione rimane unicamente il nome. Il nome che poi oltretutto è riportato per la prima volta sulla parte frontale della vettura come è stato introdotto appunto dalla 508 che è la miraglia della casa e tutto è cambiato. È cambiato l'insieme delle proporzioni, la vettura è leggermente più lunga ma sono pochi centimetri e ha una personalità totalmente diversa. È una vettura che si fa sicuramente notare nel traffico ed ha l'abilità di fondere dinamismo ma anche eleganza senza cedere a elementi barocchi a livello stilistico avendo una personalità molto distinta. Sicuramente l'elemento fondamentale è la frontale dove spicca la firma luminosa con i led opalescenti che sono stati ripresi dalla miraglia 508 ma poi è tutta la vettura che si fa apprezzare perché anche nella parte posteriore con i gruppi ottici con il triplo artiglio uniti dalla fascia nera che è stata introdotta dalla 508. Poi ho avuto modo di provarla in anteprima quando l'avete presentata alla stampa direi che anche all'interno diciamo è una vera e propria rivoluzione a parte il Peugeot iCockpit che conosciamo bene che in questo caso però aggiunge una grafica 3d. Quello che sorprende è che lascia veramente a bocca aperta l'abitacolo perché è dominato sicuramente dal concetto dell'iCockpit quindi volante compatto, strumentazione visibile al di sopra della corona del volante e grande touchscreen quindi una rivoluzione ergonomica del posto di guida che ha fatto scuola. Sono oltre 6 milioni i clienti che nel corso degli anni hanno scelto una Peugeot con iCockpit e la nuova 208 che è stata nella prima generazione la prima Peugeot a introdurlo nel mercato rivoluziona altrimenti questo concetto perché introduce la tridimensionalità è un elemento molto importante per elevare ancor più quello che l'esperienza di guida, elevare la sicurezza e anche il comfort. Tridimensionale permette addirittura quindi di vedere su diversi livelli a seconda dell'importanza dell'informazione quello che è il dato che il cruscotto trasmette al guidatore quindi con un'immediatezza superiore in termini di lettura e quindi uno standard di sicurezza ancora più elevato. Ecco Giulio all'inizio della nostra chiacchierata mi hai parlato di libertà, di scelta anche nelle motorizzazioni quindi io tornerei su questo concetto. Lascerei un po' da parte quello del full electric perché magari concentriamo questa risposta dopo. Mi concentrerei invece sui motori diesel e benzina. Cosa offre la gamma da questo punto di vista? La gamma è costituita da motorizzazioni benzina, i famosi pure tech, con potenze di 75, 100 o 130 cavalli e poi oltretutto queste ultime due potenze disponibili anche col cambio automatico a 8 rapporti che è una novità e molto importante nel segmento B. Il diesel è il collaudatissimo e molto apprezzato diesel da 1,5 litri, blu hd, 100 cavalli, cambio manuale a 6 marce e poi al vertice c'è la versione elettrica perché i cavalli sono 136 quindi è al vertice anche in termini di potenza con 260 newton metri, insomma tante caratteristiche che la fanno apprezzare come veramente versione di top di gamma. E208 alla fine è la vera diciamo così, mi piace chiamarla la vera novità di questa generazione, non perde quindi prestazioni nonostante sia un full electric, ero curiosa di sapere da te qualche dettaglio in più, autonomia, modalità di ricarica. Con 208 abbiamo introdotto il concetto anche di piacere di guida anche nel mondo dell'elettrico e forse ancora più perché l'elettrico ha un'immediatezza in termini di reazione, di erogazione della potenza della coppia che la fa davvero molto apprezzare anche nel traffico cittadino ma non solo e quindi trasmette un concetto di piacere di guida che è perfettamente incanalato in quello che è il dna della casa del leone, ad esempio lo 0100 che è un classico dato che si analizza per capire un po' la prestanza delle vetture, viene coperto in appena 8,1 secondi. È una vettura molto appagante alla guida ma che garantisce anche una grande autonomia in termini di chilometri. Una vettura 100% elettrica con un pacco batterie da 50 kilowattora che garantisce un'autonomia di 340 chilometri secondo il nuovo ciclo di omologazione VLTP, quindi sono chilometri veri. È un dato molto importante che poi va abbinato o meglio va correlato a quello che è l'utilizzo medio che un utente fa di una vettura di segmento B. Mediamente un italiano copre tra 40 e 50 chilometri al giorno con una vettura di questa tipologia e quindi 340 chilometri permette appunto di utilizzare la vettura senza ansia da ricarica e soprattutto godendo appieno di quelle che sono le caratteristiche insite del progetto 208. E qui vengo alla prossima domanda. Tempi, modalità di ricarica? La soluzione ideale che noi caldeggiamo è quella dell'installazione di una wallbox. Una wallbox è una colonnina di ricarica presso il proprio box, il proprio garage, attraverso la quale si può ricaricare la nuova E208 in 7,5-8 ore a seconda poi della potenza della wallbox stessa. La novità molto importante è che la nuova E208 può essere ricaricata anche presso le colonnine da ben 100 kilowatt. Questo significa che l'80% della capacità della batteria si carica in appena mezz'ora. Bene, grazie Giulio di essere stato con noi e di averci raccontato tutti i segreti di nuova Peugeot 208. Grazie a voi. Grazie anche a voi cari telespettatori, io consegno di nuovo il testimone ad Elisa.